Bellissimo, allora siamo live, buonasera a tutti per chi ci segue su Twitch, ciao semplicemente per chi ci sentirà su Spotify Est Radio, Est & Guest, via Savona 11, fuori c'è la tempesta, ma la vera tempesta ce l'abbiamo qua ai nostri microfoni Beatrice Quinta, benvenuta Buonasera Buonasera Ma pure con l'effettino, ma ecco Sì, abbiamo questo che sono applausi Questo è un po' più Eh, questa è la shade Capito? Ok Trombetta trap Ma è drop Yes Benvenuta, siamo stragasati di averti i nostri microfoni Anche io Come va? Pioggia a parte No, va bene Va bene Va bene La viaggia è stata una rossura di coglioni oggi che non ti sto a dire Mi sono messa il tacco altissimo, l'hai visto? Non è stata una grande mossa Però la vita va da Dio Sì, 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 assolutamente Allora, in realtà partirei dal presentissimo, dall'ultimo pezzo che ha Trazione Fatale Che è un'unità assurda Come nasce? Che cosa volevi raccontare un po' con Attrazione Fatale? Allora, è il primo pezzo che ho scritto uscita da X Factor Ed era, hai presente quei pezzi che li scrivi proprio perché vuoi fotografare un momento che È uno dei pochi momenti in cui dici, ma sai che sto bene? Sai che sono propositiva verso il futuro? E che comunque, cioè, sono una grande figa Cioè, nel senso, è quel sentimento di You cannot hurt me, my friend Esatto You cannot È solo rock and roll, insomma Solo love Solo love Solo love Cioè, fai, io faccio But posso fare sola Assolutamente Assolutamente Ah, ok Di già E quindi dico Mi chiamare a una nuova stagione Sai quante cose mi riserva con questa ritrovata maturità Che durerà due mesi e poi torno a fare schifo Come sempre Comunque Però, per adesso che ce l'ho Beh, immaginarsi anche il red carpet Che è stato un po' anche il simbolo Un po' tutta la situazione Fuori il portone di casa Secondo me è sempre Extra positiva come idea di avere dentro, no? Nel senso, si esce di casa e vediamo quello che succede Sì, per forza Te la devi vivere in qualche maniera Allora Nasce a Palermo Sì In Sicilia Sì Quindi, che ricordi hai un po' Che ti porti dentro tuttora Di casa tua, di Palermo Di un'isola che è comunque stata d'ispirazione per tantissimi artisti Palermo è Cioè, è una bellissima città Un po' maltrattata Con l'animo Punk da morire Mi ha regalato un sacco Cioè, l'altra volta ne parlavo con un mio amico Palermo è una città Che è molto democratica nel suo divertimento Nel suo sviluppo artistico Cioè, tu vai in una piazza di Palermo E trovi persone Che non c'entrano un cazzo tra di loro Non come a Milano Tipo, che ne so Delle persone Però di un certo gruppo Vanno in un certo locale E altre vanno in un altro locale Che a Palermo è Siamo veramente tutti diversissimi Però arriva Uno con la bici e le casse giganti E balliamo tutti sotto Baby K È questo Non lo puoi negare Balliamo tutti sulla stessa canzone dell'estate Cioè, è quel sentimento di dire C'è sul serio un bel melting pot a Palermo Secondo me Che mi ha insegnato Penso a Avere anche quella giusta strafottenza Per affrontare la vita e le cose E l'adolescenza là Come Una merda Una merda Una merda Raga, una merda Una merda Cioè Ma l'adolescenza No, l'adolescenza a Palermo Palermo Uscivo da scuola e avevo il mare davanti Palermo è una città meravigliosa L'adolescenza L'adolescenza è una merda È stata una merda per me L'adolescenza Non vedo l'ora che sia finita Ogni volta che mi dicono Lo ricorderai come il periodo più bello Mi fa schifo Sto da Dio adesso raga Non la voglio la vostra adolescenza Perché quali sono stati più o meno i problemi Che t'hanno messo più in difficoltà E che ora sei riuscita in qualche modo A superare Ritrovando anche un po' Quella positività Che mi hai raccontato anche prima Nel pezzo nuovo Ero io il problema Partiamo dal presupposto che Ero io il problema Però certo Magari La risposta Delle persone che ho incontrato In quel periodo Non erano proprio dolcissime Nel senso che Il liceo secondo me è stato molto impegnativo Proprio Rispetto a come mi piaceva essere E quello che invece la gente avrebbe voluto vedere in me Chiaro Quindi c'è stato un po' di struggle Non sono cresciuta con tanti amici Ho sempre avuto pochissime persone accanto Per la superfida Sì Ho persone che I miei amici sono i miei amici da quando ho 12 anni Sono sempre gli stessi E' sempre diversissimi da me Veramente non c'entrano niente Io sono veramente la pecora nera Ah beh però gli opposti sono proprio per questo Certo Si connettono così tanto bene Anche se ho qualche pecora nera insieme Insieme a te Perché comunque bisogna portare anche un certo equilibrio In qualche modo Una bella fattoria Ma una bella fattoria Esatto Sì E la musica quando arriva nella tua vita? La musica Credo ci sia sempre stata Quindi non ti posso dire Un momento Un momento in cui Sì Ho sempre avuto il piano a casa Mamma suonava il piano Vabbè Appassionato di musica E mi faceva ascoltare tutto il tempo Ero ossessionata da Bowie Quindi io sono cresciuta comunque Con quell'idea Anche estetica proprio Ah chiaro Però no Forse la prima volta che ho sentito sul serio Che non avrei potuto fare altro E' stato a 12 anni Quando ho scritto il primo pezzo Ok E l'ho detto Minchia Questo è uno stato di Estasi Che non posso avere con nient'altro Ecco non posso rinunciare No No Non potrei mai Non è nella mia natura Starei solo male Per questo A me piacerebbe avere un'alternativa E dire Minchia se mi fa male con la musica Ragazzi ho un piano B Che gli scasso tutti No raga non ho piano B Quindi mi va bene con la musica Mi va bene con la musica Dicono tutti che per arrivare al piano A Non devi avere il piano B Quindi secondo me È la via Cioè devo Esatto È la via giusta E quando te ne vai dalla Sicilia invece? Me ne vado la prima volta a 18 anni Sto sei mesi E riscappo giù Perché proprio non Non ero pronta ad una città Così individualista come Milano E non avevo un gruppo di amici Quindi Cioè Allora a Palermo se tu esci Il sabato sera Ti passano a prendere Siete in grupponi da venti E vi muovete in un branco Nessuno va per le sue Capito? A Milano invece quando arrivi Capisci che è tutto più a raggio Nel senso che Ci becchiamo là 10 minuti di conversazione E poi c'è l'altro gruppo E poi c'è l'altro gruppo Tipo speed dating Però versione amicizia A Milano E quindi per abituarsi a quella roba Allì ci ho messo un po' di tempo Perché ero troppo piccola E troppo insicura Adesso invece Non riesco più a tornare indietro Al gruppone di amici Adesso a Milano invece Hai trovato una dimensione un po' più tua Sì perché quella metà Tra socialità E fatti cazzi tuoi Gio Cioè Don't touch my things And I don't touch yours Yours No però è vero È traumato Io vengo da Cioè Veniamo Io andrei da un paese Un po' più piccolo Di Palermo Nelle Marche Quindi Passare da quella situazione Che mi racconti tu Quindi tutti amici Nello stesso bar Tutti quanti insieme Al liceo Inconti un sacco di persone Ah Arrivi qua Non ti conosce nessuno Devi costruire tutto da zero E se prima non hai Insomma Capito che Prima te ne andavi da lì E meglio era Perché poi comunque L'impatto è forte E ci rimani Insomma Eh per forza E quindi arrivi Arrivi a Milano Col sogno della musica però In testa Sì O per fare altro Cioè avevi altro in testa No avevo già firmato Un contratto risco grafico Quando sono salita Perché Io il pretidente A 16 anni Ho fatto Sanremo Giovani Ah ok Ed ero finita In un'edizione Sparaflesciatissima Ti dico i nomi Ti faccio capire Perché era sparaflesciatissima In scala Io Che tipo di scala Eh? Scala No lo facciamo Aspetta facciamola così In scala di famosità Ah ok No 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 Peggio Ascolta i nomi E basta Ok Ok vai Mamud Ok Irama Ok Ermal Meta Francesco Gabbani Tutti Nello stesso Sanremo Giovani Giovani Il mio Quello di quando avevo 16 anni Beh quando dici il culo Ho capito Io sono arrivata Li ho visti e ho detto Me ne vado È stato bello raga Irama sei un figo Mamud ti adoro E ho detto vabbè raga Minchia Mai che è un gomblotto Esatto Mi avete messo contro lo squadrone della morte Vabbè E quindi ho fatto Sanremo E subito dopo ho firmato un contratto con Con una major E sono venuta a Milano Perché pensavo che fosse la realtà giusta in quel momento E mi ricordo che sono andata a fare questo appuntamento in questa Questa discografica E c'era il tipo che mi aveva firmata Che mi disse Beatrice guarda che devi fare musica a Palermo E poi devi portare la musica a Milano La novità a Milano E io dicevo Vabbè No 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 Se tu mi dici di fare qualcosa io faccio l'opposto C'è la psicologia proprio base One on one No E quindi che cazzo sto dicendo No in senso tu arrivi a Milano effettivamente Col sonno della musica Ah sì me ne vado Me ne vado E te ne vai via Perché me ne vado via Perché ho detto minchia No no troppo difficile ragazzo Me ne vado Me ne vado a Palermo Avevo detto ai miei amici di Milano Che ero a Palermo E miei amici di Palermo Che ero a Milano Ah ok In modo che Io non esisto Non esisto Non esisto Mi sono bloccata a letto sei mesi Sei mesi a letto tipo Così a scrivere basta Ma neanche proprio la vita di casa Neanche i miei genitori a casa vedevo capito Ero io nella mia stanza Non c'era nessun altro Un po' patologico Yes l'ho passata comunque Sì sì esatto Cioè patologico Siamo qui a parlare Siamo qui a parlarne Non ho problemi a dire È andata alla grande alla fine Non sano my friends Poi cosa succede Che mi fidanzo Ok Mi fidanzo E lui faceva l'università a Palermo E io quindi rimango a Palermo Decido di rimanere Per amore Per amore Cominciano in zero assoluto Appunto Per amore Eh appunto Mai Ti ricordi come è finita la canzone In zero assoluto Sì assolutamente Anche perché sono scritta quella canzone Mai Lui mi dice a un certo punto Basta Io voglio rincorrere il mio sogno Vado a Milano E io Amore Certo Mollo pure io L'accademia Vengo con te Saliamo a Milano Vado a Milano Una settimana dopo Ehi ciao Bea Guarda Ti lascio Boom Mic drop E io Grande bro Grazie Ho raccolto I pezzi Ho raccolto i pezzi Ieri volevo lanciare Però sono rimasta a Milano Ed è stata la cosa più Più intelligente che potessi fare Perché ora sul serio Credo di avere costruito il mio giro Cioè Quella cosa che dici minchia Ora è famiglia Cioè io quando arrivo A terra a Milano Mi sento a casa Cioè Ok Quella roba Quindi già cambi Rispetto a quel primo impatto Che forse avevi metabolizzato In quei sei mesi Di camera Sì Forse Non lo so Sì Secondo me no Ho metabolizzato Milano Durante la quarantena Perché ho finalmente Incontrato delle persone Con cui stavo costruendo qualcosa A livello proprio artistico E' umano soprattutto E' umano Quindi ho detto minchia Ho degli amici raga Grande Stai diventando grande E quindi E quindi mi sono sentita A mio agio qui E poi soprattutto Era una questione Anche di convenienza Cioè nel senso Io che cazzo devo fare A Palermo ora Cioè Io ho passato I mesi prima X Factor A Cercare in qualunque modo Una soluzione E Farmi infilare In una In una playlist Una Una playlist Un qualcosa Qualcosa Per dire Minchia Ho ragione Essere pazza E tutti Ho ragione Tipo a dire Devo credere In quello che faccio Perché Cioè per X Factor Se avessi ascoltato Quello che mi dicevano Comunque dovevo cambiare Nome Vita Tutto Colore di capelli Colori di capelli Qualsiasi cosa Genere Tutto Cioè quindi Comunque Boh Sono arrivato Un momento Un momento Nella mia vita In cui sono molto Equilibrata Tra Quello che la gente Richiede da me E quello che io Voglio dare Ok Che comunque Posso dire No Cioè È comunque un Life goal Non indifferente Non indifferente Allora Prima di Toccare Insomma La parentesi X Factor T'avevo detto Prima Facciamo un po' Un gioco Palermo contro Milano E quindi il cibo A Palermo o a Milano? Magà è Palermo Tutta la vita Palermo Aspetta Aspetta Allora Parliamoci chiaro Ok Come cibo Nel senso Di basso budget No Comunque budget normale Cioè Dai 5 euro Fino ai 30 100% Palermo Ok Se parliamo di budget Ambizione stella Ok No Milano Ma che Cioè Ne abbiamo Qualcuno in Sicilia Della Madonna Ma Milano È meglio Sì Secondo me Sì Sì Alcune robe Sì Giusto così C'è anche Equilibrio Sì ragazzi Aspetto c'è Nel senso Spero che nessuno Di Palermo Però no Provate Vi giuro budget 150-200 Milano sperimentano di più Ma al bar Forse lo spesi Questi soldi Però al ristorante No Io sono la tipa Che invece Preferisce risparmiare Tipo Un botto E poi vai a mangiare bene Poi vado a mangiare il pesce Sì Io sono fissata Con i ristoranti Ma come cult C'è proprio Conosco i chef Mi piace Parlarci Minchia da morire Ma poi provare nuove cose Cazzo ma facciamo un format gastronomico Ma io sono capitata Non hai capito Io sono capitata Nel paradiso Perché faccio musica In uno studio Che ha sopra Un'agenzia di comunicazione Che si chiama Tuorlo Ok E c'hanno una cucina gigante Dove vengono i chef A cucinare là Quindi ci sono io sotto Che scrivo E poi quando ti vieni Salgo sopra E c'è lo chef Che ti fa tutte le cose Ma tu hai idea Che il paradiso Che sto vivendo Forse questa è la cosa più bella Post X Factor Esatto Possiamo dire Lo possiamo dire Lo possiamo dire Quindi cibo Alto budget Milano Low budget Street food Palermo Esatto Lavoro Eh vabbè Ok chiaro Tranquillità nel lavoro C'è tipo Proprio Tranquillità nel produrre Milano Milano comunque Aspetta Scrivere dici Oppure lavorare Sì proprio zen interiore Per cui ti dici Ah sono libero Mi stanno tranquillo Veramente faccio Palermo È casa Vabbè Palermo Dating Da nessuna parte Da nessuna parte Nemmeno Timbuktu Niente Raga non lo so Non Non so che Sire Ci riaggiorneremo Per questo Comunque Parcheggio Io non guido Però mi pare peggio Milano Milano Di Palermo Comunque Ma perché a Palermo Conosci più strade Sicuramente Stagli quegli spot Ci sono più posti Diciamo Ci sono più modi Più modi Di trovare posto Esatto E di volare la macchina Sì E gli amici Palermo Palermo Alla fine fine Eh perché quelli di Milano I miei amici strettissimi Quello che ti dico famiglia Siamo tutti di Palermo Palermitani Siamo un gruppo di palermitani Siamo 15 palermitani Anche nel mio team di lavoro Siamo tutti palermitani Che secondo me È una cosa naturale Che chi non viene da qua Cerca comunque Cioè Gli simi Ma perché Persone che hanno vissuto così Esatto Esatto Cioè il mio gruppo di amici qua È del mio gruppo Insomma di marchigiani Best friends forever Bro Forever Insomma Quindi è un po' quella roba lì E alla fine poi non vuoi Puoi girare Provarci Ma torni sempre Torni sempre a casa Lì dove siamo stati bene Insomma Allora X Factor Sì Quindi più o meno Mi hai raccontato Come ci arrivi X Factor Quindi quello che succede prima Un break up Comunque importante Comunque un periodo in cui Raccogli pezzi Inizi a scrivere Ti senti bene E arriva X Factor Quindi Dalle aduizioni Fino all'ultima sera Con tutta la festa Che succede Che esperienza è stata Ma è stata una delle esperienze Più impegnative e belle Della mia vita Forse è più bella Che impegnativa Perché è arrivato A un punto in cui C'eravamo talmente Tanto abituati Ai ritmi Magari alcuni Più di altri Che Era soltanto diventato Un sogno Capito Cioè avevi Per me non era Una questione anche di Vabbè ovvia Di visibilità Chi voglia prendere per il culo Grazie al cazzo Però una questione di palco Cioè Io ho sognato Di stare Lavorare con professionisti Del genere Per anni E quel tipo di palco Lo puoi ottenere Soltanto se te ne vai All'Eurovision In Italia Capito Oppure ti fai MTV Awards Cioè in Italia Comunque Con quelle scenografie Con quelle coreografie E io quindi Siccome sono sempre Stata molto sicura Che Nel momento in cui Andavo live Sapevo che Potevo dimostrare Qualcosa alla gente Che ero più di Una canzonetta pop E quindi Credo di avere Utilizzato ogni energia Pensando che Era il modo Perfetto Per fare uscire Delle parti di me Che se non sarebbero Rimaste Là A 500 ascoltatori Mensili Forever Cioè O comunque Avrei trovato Altri modi Lo so Però Cioè per come sono fatta Io anche il daily Di X-Factor Era una cosa bellissima Perché Onestamente Io la sento La necessità Di Di sfogarmi Parlare E io con i miei Paradossalmente Con i miei amici Non voglio dire A volte neanche pesi Ok E in quel momento A un certo punto Era diventato La camera E quella cosa Di sapere che Devo raccontare Ogni settimana Un pezzo di me Al pubblico Era diventato una specie di Quasi dipendenza Ah terapia No terapia Cioè Io pensavo Io entrando ho detto Minchia Che sarà una merda Cioè sarà una merda Riuscire a fingere Di fronte alle camere Quando non stai bene Che invece va tutto bene E invece il fatto Di avere mostrato Che non andava bene Che c'erano delle parti Più fragili Mi ha liberata Da una cosa che Non pensavo Di potermi liberare Perché sono sempre stata una Che metteva Tante maschere Pur di non fare vedere Le debolezze Sì E quindi mi sono sentita Nuda nel senso Proprio più intimo Del termine Che ho detto Mi ha solo regalato cose Questo programma Questa gente E Lo ricordo con amore Soprattutto perché Cioè persone veramente belle Non succede spesso Io devo essere onesta Non succede spesso Te l'aspettavi che Sarebbe stata così Impattante Come esperienza Oltre che arrivare Fino in fondo Effettivamente Sì Lo sapevi Lo sapevo Credo di averla vissuta Veramente bene Perché ero perfettamente Consapevole di quello Che sto andando a fare Che è la cosa principale Di un artista Non firmate contratti A cazzo Non lasciatevi abbinare Cioè siate consapevoli Di quello che state facendo Che sia un talent Che sia una discografica Un management Abbiate consapevolezza No? Quindi io prima di scegliere Di andare a X Factor Mi sono fatta Quattro calcoli Come è giusto Che debba fare Ogni artista Con la sua musica E onestamente È andata Come io Come io Speravo che andasse E come un po' Prevedevo Nel senso che Io ero Consapevolissima Dal preprovino Proprio prima Delle camere Che Per me sarebbe Stata difficile E lo sapevo Ma perché Per me è sempre Stata difficile Sia come persona Sia musicalmente Come artista Il punto è Che io mi annoio Molto facilmente E quindi se le cose Non sono difficili Mi cago la minchia Ok Cioè io mi diverto Quando Quando devo Devo uscire le unghie Capito E quindi è stato Molto molto bello Ma questa tua attitudine Anche lavorativa Chiaramente Ma poi anche personale Te la porti Da giorno zero O l'hai costruita Col tempo Un pochino No Cioè questo occhio Del attitigre Questo graffio Comunque Che ti permette Di affrontare tutto Con questo piglio È una roba Che hai innata O hai passato Degli step Importanti Per dire Secondo me Entrambe le cose Cioè c'è sempre Stata sotto Credo di essere stata Sempre Abbastanza combattente Fastidiosa Da piccola Ero più fastidiosa Quindi ho sempre avuta Quella verve lì Però Col tempo Esplosa la sicurezza Cioè prima Ero un'insicura Che Dava fastidio Ok Poi ho sviluppato La consapevolezza Invece di chi Di chi fossi Sì Ma perché ti devono succedere Cose per capirti Cioè È inutile Tu puoi essere maturo Da morire A 16 anni 17 anni Ma finché non ti succedono Degli step Nella vita Non puoi capirle A determinate cose Non ti puoi neanche Proteggere A determinate cose Ed è giusto Che le provi Certo Alcune vorrei averle Magari dici Che cazzo Quella cosa Potevo Non Però Me la sarei evitata Molto volentieri Me la sarei evitata Quando non sei presente Il meme di quello Quando te ne vai Che non sei contento Pensi Non ti asso Il tuo Non sia il tuo Miglior lavoro La battuta che hai fatto Totalmente Cioè Capito Ho capito perfettamente Quale è proprio Sì sì Poi c'è anche Con uno sticker Da qualche parte Di quella roba Ho visto oggi Ho detto Sono io Cento per cento me Quella cosa che dici Non sai mai Se sei stata Cento Veramente sincera O veramente Coglione In quello che hai fatto Ma va bene così Senti Sono stati tutti Momenti bellissimi Ma se mi devi fare Una top 3 Della roba più divertente Più entusiasmante Più emozionante Dell'esperienza Six Factor Quali metti In classifica Allora La più divertente La più divertente È stato Quando abbiamo Autogestito Il Repower Che non è andato In onda Ok Però praticamente Dovevo registrare Delle cose Per l'intro Che andavo registrato Prima E si erano rotte Le televisioni E quindi Non si poteva fare Questa cosa Non c'era il pubblico Quindi ci hanno buttato Sul palco Dite Intrattenete Fate qualcosa Parlate Parlate Allora abbiamo iniziato A fare noi giudici Ballavamo È stato un casino Bellissimo Ok Poi Che mi hai chiesto Top 3 momenti Che mi scegli tu Premesso Che sono tutti momenti belli Morgan Vero Morgan è stato un momento Che io onestamente Ricorderò per sempre Ma perché Allora Ho pianto Per tipo Tre giorni Prima Perché non l'abbiamo provato Non c'era Non c'era No Guarda Il delirio Il delirio Veramente Anche Jacopo Era là Anche Dargen Era là Che dice Cazzo In mano al signore Raga In mano al signore Prima di salire Lui mi guarda E mi fa Ora cambio gli accordi Ok Io sono salita Ho detto Raga Lui ti ha detto Ora cambio io gli accordi Mi ha detto La facciamo più ballata Ok E che gli dice a Morgan Il genio incontrollabile Che dici Minchia Quindi Io avevo due possibilità O mi lasciavo sopraffare La situazione O Seguivo la sua La sua scia E siccome ho fatto Un sacco di jam session A Palermo Io ho pensato Lo so già fare Ma se chiudo gli occhi Io sono a Palermo A piedi nudi Con la jam session In piazza Sulla sabbia E lo sto facendo con Morgan Raga Con Morgan Che erano i tuoi idoli Minchia Sono entrata là sul palco E ho detto Vaffanculo Cioè Non mi sono mai divertita Così tanto Ci credo Cazzo Ma se ne è pure andato Prima di presentarsi Tipo Bugo Cioè è stato iconico Raga è stato un momento iconico Morgan mi ha regalato Un momento veramente iconico Sì Della life Totale Ma veramente A parte la mia mo Cioè quasi morte Sì perché poi hai fatto Quel giro tondo Senza No ma anche il suo umorismo È molto simile al mio Siamo un incrocio Un bel match Un bel match Sì un bel match Devo essere onesta Un bel match Poi Terzo momento Forse Cazzo Fiori Rosa Ok Fiori Rosa Ma Fiori Rosa Il giorno dopo Io pensavo di uscire E Invece Minchia E ho detto Non ci posso credere Che Jacopo aveva ragione Io non glielo voglio dire Che aveva ragione Minchia preferivo Che andava male Che dirgli che aveva ragione Avere Avere una sorta di Non tanto di giudice Quanto di mentore No perché alla fine Per voi erano una sorta di guida Sì Com'è stato? Nella tua vita Ti era mai capitato Prima di avere una figura Così tanto esperta Vicino Che ti potesse effettivamente Guidare Ma più che guidare Anche aiutare Sotto certi punti di vista Cioè come è stata Quelle esperienze lì Con Darjan? No secondo me Qualcuno che Mi insegnasse così tante cose A 360 gradi Non l'ho mai avuto Ho comunque avuto Delle persone Che mi hanno cambiato Tanto Ma non persone Che mi hanno proprio Rigirato Cioè Jacopo Io sento che Mi ha rigirato la vita Sotto certi punti di vista Perché Anche se non Anche se non sembra È di una saggezza Veramente Che a volte Mi dà fastidio Per quante volte Ha ragione Cioè gli direi Basta 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 Cioè Sono finito ormai Non infierire Infatti Io sono una persona Abbastanza sicura Di quello che Fa per adesso Ok Però Lui Minchia Lo sento tanto Cioè tipo Quando vi faccio Ascoltare un pezzo Dico Minchia sto facendo Ascoltare un pezzo Ok Siamo pronti Ci siamo Sono pronta Sono calma Quindi Perché lo apprezzo Talmente tanto A livello artistico Che non è solo Una questione Siamo amici ormai È una questione Proprio Ti stimo talmente tanto Che voglio farti Ascoltare solo Belle cose Quindi E che tu sia comunque Contento di quello Che si sta facendo Sì 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 Cioè sono quelle bambine Tipo papi dimmi Che sono brava Ok Papi ti prego dimmi Che ne vale la pena Quando me l'ha detto Io ho detto sì E vai Con tipo una lacrima Che fronassi Ti piace Sì sì ma lo sapevo Che funzionava quella cosa Sì 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 Me lo puoi anche dire Ma cioè ero già sicura io Esatto Comunque La tua estetica invece Sì A partire dal look Passando per la performance Come Cioè da che parti è composta E quali sono stati I tuoi un po' Riferimenti Che Che l'hanno costruita Insomma Allora Costruita non in senso brutto Che sia artificiale No 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 Certo 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 Ispirata È una delle cose più belle E poi fondamentale Perché tutti ci dobbiamo ispirare Anzi è il nostro lavoro Probabilmente Esatto Allora Da piccola piccola Secondo me La mia influenza più grande È stata sul serio Bowie E poi crescendo C'è stato un po' più di Roccheggiamento Proprio basic Perché ero in un gruppo rock Che faceva cover rock Ok Il classico gruppo Il classico gruppo Cover band E poi sono stata influenzata Un botto dal rap Ah ok Mi ha cambiato tanto Il modo di vedere La scrittura E poi mi ricordo che il motivo proprio che mi ha fatto dire minchia Ho capito che sentimento vorrei trasmettere Quando c'era Alicia Keys Che cantava No One Su MTV E mamma è arrivata E mi ha detto Che bella questa canzone E io Sì Però ho i coglioni a terra Ok È bellissima È stupenda È stupenda Però che palle mammi C'è Poi subito dopo Appare Da una piscina Mamma mamma I don't know how you like to do In Texas please For them later E ho detto Cazzo Lady Gaga Cazzo Ma tu chi sei? Ho visto questa creatura uscire dalle acque E ho detto Mamma Dezza Diva In The Make Che Ho sentito quella voglia di alzarmi Ed essere Quella cosa lì Sì Sì C'è come se per me fosse stato sempre naturale Che Allora Sai io chiedo sempre alle persone con cui poi leggo Che fanno musica Ok Cosa vogliono vedere sotto il palco Perché cantano? Cioè quando fanno i live Cosa vorrebbero vedere sotto il palco? Ci sono le persone a cui piace stare al teatro E vedere gente seduta Che ascolta attentamente E c'è gente invece che Come me Vuole regalare tipo Un'ora e mezza di Euforia Euforia Non esiste niente al di fuori di te Là Che balli su una cazzo di cassa E ti dà il permesso di essere scemo Di prenderti un po' meno sul serio Capito? Cioè io volevo vedere le persone divertirsi Credo che una delle cose che Veramente più belle che puoi regalare Alla gente È la forza di essere leggeri Che è diverso dalla superficialità Chiaro E il tuo tour com'è andato invece? Ma la bamba Ma la bamba Quanto l'hai sognato? Come l'hai costruito? E poi com'è stato effettivamente Andare davanti a quelle persone E spaccare persone Un'ora e mezza Mi dici che adesso No è stato È stato surreale Perché finché sei dentro X Factor È tutto veicolato Da La televisione Nel senso che Ti guardano Perché tu fai parte Di un programma Ma quando una persona Paga un biglietto Per venirti a sentire È Una responsabilità diversa E E io l'ho vissuta Benissimo e malissimo Contemporaneamente Perché ero in ansia da morire Cioè io dovevo riuscire A dare La stessa energia Che avevo dato X Factor Ma Meglio E su un palco Che era Un decimo E senza scenografie E tutto quello che Io amo Cioè alla follia Quindi Certo che ti proteggeva Anche un po' le spalle Nel programma Nel senso Tanto Tanto Io sono molto più sicura Quando ho Tutto Intorno Sì Anche perché pensi Solo a cantare A quel punto Sì No È che mi vivo la fantasy Cioè mi immagino da fuori Dico Minchia che è figata Ah ok C'è il senso Il momento proprio Sì proprio me lo vivo di più Perché mi diverto Mi diverto Perché devo fare più cose Cioè Io mi annoio A stare sul palco Col microfono Col microfono Raga mi annoio Non voglio la Mi sento Io mi devo sentire libera Faccio musica Da quando sono piccola Perché ho la necessità Di farlo Di sbloccare quella porta Della libertà Insomma E quindi Sì Non mi ricordo tra l'altro Che stavo dicendo Del tour Ah bellissimo Bellissimo tour Ora inizia con l'estivo Vai Ok Ok C'avevi qualche Che ne so Rito pre 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 Portavi tipo Amici dietro Per farti accudire Fino al secondo Prima di salire sul palco Non so A X Factor Sì Ok Post X Factor No Quanto cazzo Sono cresciuto Il glow up Il glow up Della serie Non mi serve Neanche il portafortuna La fortuna È per sfigati Giusto C'è il talento My friend Esatto No allora A X Factor Mi nascondevo le caramelle Per la gola Nelle tette Perché era l'unica cosa Che avevo Perché a seconda del vestito Non puoi mettere mutande Non puoi mettere il giseno Quindi l'unica cosa che hai È una tetta sudata Ok E lì la caramella Appiccicala Là Perché nella scella non puoi E chiaramente Per forza qua Ok Ok Allora Cringe o cool Un gioco Ah ok I fuocherelli In DM C'è la risposta col fuoco In DM Cringe o cool No cringe Cringe Anche se prima Esatto Prima eri un po' indecisa Raga Me l'ha detta prima Perché ho pensato Dipende da quanto sei buona Esatto Capito Dipende da chi te lo manda Effettivamente Dipende da chi mi manda Sto cosa Allora Invito ad un concerto No Cool 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 Mamma mia Cazzo ok Telefonata per sapere che fai Super cool Ok Proprio con la stupida Che stai facendo Super cool Grazie Possiamo abbattere questo Minchia Stereotipo che sei Che palle La cosa di Oh mio Dio Non posso farmi vedere Interessato Eh allora ti molla Ma che c'ho tempo da perdere No chiamami E se non mi chiami Ciao Ok Allora Che italiano ha usato Per scrivere questa frase Non saprei sai Ma Queste Queste immagini Che noi stiamo registrando Si possono usare A geggi Che sputano fumo E Allora Meglio di no Ma non per Quali regole Non per quali regole Ma perché dopo Quando facciamo le clip È tutta una sorta di Nebbia di scena Che potrebbe dar fastidio Comunque Allora Pubblichi una canzone Che sai che piace Al tipo Da cui vuoi farti scrivere Sempre Ok No 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 Non che mi piace a lui Però nel testo C'è sempre una shade Capito Sono una basic bitch Ok Non è che posso nascondermi Dietro Cioè I'm a basic bitch Ok quindi Quindi cool Ok 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 No no Super cringe Ma lo faccio Ah ok È cringe da morire Però lo fai Ma non posso non fare Ok ok Perfetto Comunque La top 3 Delle crush Proprio quelle grosse Guarda che mi inculo Sempre con queste crush L'ultima volta Che l'ho detto X Factor Mi sono ritrovata Morgan davanti Ah eh ok Quindi magari Ti faccio da quella porta Allora no Ho imparato Ho imparato Dare dei santi Dico solo crush americane Eh esatto O che non ci sono più O che non ci sono più Capito Come fai my friend Esatto Come fai Allora top 3 crush Allora top 3 crush Vabbè la prima Restyle Vabbè La seconda Kristen Stewart Ok La terza Oh cazzo No non post A me piace molto A me piace molto Quel fascino Un po' hip hop Un po' Ok Che potrebbe andare proprio Cioè potrebbe sparare Per difenderti E contemporaneamente Sto per morire Sto entrando nel gabbio A me piace Allora la cosa perfetta È invece uno che sembra così E poi ricco di famiglia Ah Quello è il top del top Quello è il top del top Ok Però non ce l'abbiamo il nome Di questo qui che dicevi Elegante Ah lui si chiama così Elegante Oh shit Oh shit Ok Comunque se ti ha portato Vanna Vanda La tipa Quella bionda Che sta col calciatore Vanda Nara Vanda Nara Ok Con lei Ora lei sta con lui Si è lasciata Adesso sta di nuovo con i cardi No Sì Vabbè Vabbè Questo momento di gossip Con Morgan Ti ha portato fortuna Vediamo se Harry Styles Tra domani e dopo domani Nel prossimo 48 ore Dopo tra l'altro Che è stato Non è stato visto Con Emilia Tchaikovsky Sì Shock Sì sì Pazzesca quella roba là Vabbè Sì non era una Coppia che mi vedevo No vero E invece È successo Quindi Allora Andiamo avanti Ah Una roba volevo chiederti Cioè C'avevo pensato prima Volevo ricollegarmi Morgan Che è uno dei tuoi idoli È molto simile Secondo me anche un po' per osmosi Nel suo passato A Bowie E sono due comunque personalità Che hanno subito molto la critica Secondo me Nonostante siano dei geni Incontrastati Però Nel loro tempo Hanno vissuto sia molto successo Ma anche molta Molta pressione Molta critica E te Come ti sei vissuta Questa roba qui Quindi Le classiche rotture di coglioni Durante il programma E dopo il programma Soprattutto Magari Ma Lo vedo come un motivo Per spronarmi A fare Non fare di più Ma fare Adesso la critica Io onestamente sto male Quando non mi criticano Posso essere sincera Io sento che a volte Quando mi arrivano troppi compienti O stanno dicendo cagate E sono dei falsi E non hanno il coraggio Di dirmelo Oppure Non sto facendo niente Che vale la pena Di essere criticato Che è ancora peggio Cioè Rimanere insipidi E avere un 6 Su una pagetta Non va comunque Teniti il tuo cazzo di 6 Dammi 3 meno O 3 Esatto Dammi 2 più Ok Preferisco Non piacere tanto Che stare Insipida Ok Quando fai uscire sesso Prima del programma Perché sesso è uscita Due anni prima Prima del programma Ti immaginavi Che sarebbe diventata La hit Che comunque poi È stata E che provi Quando la fai su un palco Davanti alle persone Che impazziscono Io non pensavo Sarebbe stata Un pezzo Sarebbe stato Un pezzo forte Lo pensava Giulio Nenna Che era il producer Che l'ha prodotta E mi ha detto Quando io ero mandata Tre anni prima Cioè Adesso sono passati Forse tre Quattro anni Sono passati Da quando l'ho scritta L'ha sentita Mi ha chiamato E mi ha detto Questa è una hit Una hit Questa è semplicemente Una hit Ed eravamo A Milano In un bar E lui ha iniziato A cantarlo Per strada E io ho detto Giulio Stai zitto Ti prego Stai zitto E gli fa Guarda che la canteranno tutti E io non ci credevo E minchia 500 ascoltatori mensili Ha avuto 2000 Cioè Veramente avevo 2000 ascolti su sesso Poi forse 15.000 Forse 15.000 Quindi ci avevo perso Tutte le speranze E invece Dall'inizio Giulio Ci aveva un po' preso Sulla forza Giulio ha fatto tipo Raven Ci ha avuto la visione Ma lui ce l'ha Sti il Raven Ce l'ha sta roba Ce l'ha sti il Raven Sì 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 partono Ma io ho capito Sia dalle storie Degli altri musicisti Che un po' dalla mia Che ti devi anche fidare Di un ascolto esterno Perché La canzone L'hai scritta Comunque tu Cioè tutte le canzoni Che scrivi Io capisco che Ce ne saranno alcune Che non ti piacciono di meno Alcune di più Ma un orecchio fresco Ti riesce a dire Forse a volte anche meglio Sì quel parere un po' esterno Sì perché tu ci sei troppo dentro Capito Chiaro 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 Chiarissima questa cosa Allora La tua ossessione E il tuo talento Aspetta non ho capito la domanda La tua ossessione Vago anche risposte Iper stupide Ok Lo specifico sempre Perché magari uno si fa il trip Sulla roba E il tuo talento Allora La mia ossessione Sono le federe dei cuscini Ok Mi fanno impressione Ok Quindi non sei ossessionato Deve cercare un po' strane No Tipo se vedo qualcuno Che si siede sulle mie federe Con la felpa Con cui è uscito Mi viene un attacco di panico Ok Ok Poi il mio talento Mi so toccare il naso Con la punta della lingua E lo sapresti anche dimostrare Sì subito Ok Ecco È avvenuto il contatto È avvenuto il contatto È toccata È toccata Poi ho altri talenti Che non posso farti vedere Ok Scusa che me l'hai messa Su un piazzo d'argento Dovevo farla Non c'è niente E anche qua Allora Cos'è per te il successo E cos'è per te la realizzazione La realizzazione È riuscire a costruire Un ambiente accanto a te In cui ti senti libero Di essere te stesso Che ti spinge a dare sempre La parte migliore E il successo È Poter fare le cose Senza guardare il prezzo Eh C'è Tanta roba Onesta devo essere Sì 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 Cioè non penso Proprio non te l'ho po Cioè Capito Ok Perfettamente Perfettamente Entro faccio swipe E via Via È quello che penso io Al bar dopo mezzanotte Tipo comunque Già ho speso Però dico cazzo Vorrei proprio spendere di più Sì perché è inutile Che ti dico il successo L'arte Io ti parlo proprio A livello pratico Di cosa concreta Cioè cos'è il successo Vero quello che ci immaginiamo Eccetera E aprire Quell'applicazione di shopping E mettere tutto dentro il carrello Sì Apple play Sì Don't be afraid To be superficial My friend Everyone are Doppio click Everyone is Everyone is Everyone are Everyone are Everyone are Everyone are Everyone is Raga questa cosa Non si può tagliare Vero Grande Allora 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 Parliamo un po' di futuro Sì È una roba che ti spaventa? Sì In generale Nella musica Ah ok Da sempre È il mio incubo Perché io non voglio invecchiare Mi fa molta impressione L'idea di invecchiare Cioè Io sarei una di quelle persone Che se Ci vorrebbe vivere per sempre Io Sempre a 17 anni Nemmeno 18 Forse 18 Per alcuni facilities Particolari Però non più di 18 Già 19 Sono venuto qui a Milano Università Palle su palle 18 Io già sentivo Il peso dell'invecchiamento Quando ho campiato 18 anni Ho detto Minchia non ci credo Ho fatto 18 anni Sei maggiorenne Sei maggiorenne Prima ero il fenomenetto Cioè Andai a 16 anni E fai cagate Sei giustificato Sì 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 Minchia poi cresce Dice Tutte queste responsabilità Non le voglio Ma chi l'ha mai chieste? Toglimele Toglimele Non le ho mai chieste Allora Ti faccio le ultime Due domande E poi chiudiamo La tua mamma È molto presente Nei tuoi testi O sbaglio? La menzione ogni tanto Vero? La mia mamma È la persona più presente Nella mia vita Esatto Io voglio chiederti Se i tuoi t'hanno supportato Fin dal giorno 1 E se hanno capito subito Che comunque Loro figlia Aveva questo pallino I miei genitori Sono la mia La mia ragione di vita Sono proprio La classica siciliana Non so come c'è Il viaggio di maturità L'ho fatto con mia madre Ok Al liceo uscivo Con i miei genitori Il sabato Cioè Siamo una famiglia Super unita Anche nelle cose brutte Che ci sono successe Siamo stati veramente Sempre molto onesti Tra di noi E Quando nessuno Credeva in me Neanche io Mia madre Non ha mai smesso Di crederci un secondo Anche quando Veramente accanto Tutto diceva Ragazzi Iscrivete all'università Fai qualcosa C'ha da cambiare qualcosa Mia madre Proprio È stata un toro Continuava a farmi esibire Sul Salone di casa Dicendomi Cambia questa mostra Non la sai fare bene Fai questo Fai quello Ah proprio tipo Direttrice d'orchestra Capito Maestra di danza Sì 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 Assolutamente sì E io ancora adesso Quando mi capita Di Di dover fare qualcosa Che in fondo So che Non so se questa cosa La dovrei fare Chi la chiamo La chiamo Cioè anche per le cose musicali Capito Mi fido Di lei Del suo gusto Famiglia super liberale Dei pazzi Dei pazzi Amo dei pazzi Con l'ax Anche se mi sentono Lo sanno Il nostro gruppo Si chiama famiglia di pazzi Crazy family però Cristallizza perfettamente Il mood Sì Sono uguali a me Cioè Siamo una famiglia così Così proprio Iconica in rock and roll Così Sì sì Mi mamma è una buona Che non mi amma Una buona proprio Io un cesto in confronto Allora Ultima domanda Cosa ti auguri Per te stessa Per quello che è il futuro Che ti spaventa tanto Mi auguro Di non perdere il coraggio Di Di fare Quello che amo Ok Poi Mi auguro di Mi auguro Sul serio Di Non Non compromettere L'arte Che voglio portare Per compiacere Qualcuno Sì O Come mi vesto O quello che dico Qualsiasi cosa faccia parte In questo periodo Più quello che dico Forse Ok Cioè io non mi adeguerò Per farti stare meglio Per sembrare meno scomoda Io sono scomoda E non mi interessa Se tu lo sei pure Esatto Anche qui Direi che Non parte E forse anche Conoscere Harry Styles Nei prossimi 48 ore Eh sì Ma ce li ho altri Guarda che C'è la lista Ma hai sparato alto Tanto per dire Te ne dico uno Ma c'è no Altri più bassi Realizzabili Che dici Ok Ok Allora io con questo Chiuderei questa puntata Di Aston Guest Io ringrazio Moltissimo Beatrice Quinta Grazie a te Anche più alto Tipo si basse Non so Perché di più Prenditeli tutti Applausi Una cascata di applausi L'Aston Guest è finito Noi ci sentiamo Nel prossimo episodio Bella lì Grazie mille Grazie Beatrice Grazie a voi